Bianconeri! Sulla cerpe! E forza Juve! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club di Zano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Lazio. Seconda giornata di campionato, sabato 25 agosto, ore 18. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni, Juventus Club Lizzano Bianconera, piazza Matteotti 22, Lizzano. Per contatti telefonici, Antonio 348 80 88 803, Cristian 349 68 000 66, Giuseppe 347 04 17 623. E sempre forza Juve, fino alla fine! Grazie! Grazie! Grazie!